Ciao a tutti! Oggi prepareremo il latte condensato. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti. Gli ingredienti sono latte, zucchero, purro, i semi della bacca della vaniglia e la maizena o fecola di patate. Chiamiamo il via alla ricetta. Iniziamo subito con lo zucchero la maizena, tiriamo lo zucchero e andiamo a polverizzarli per 15 secondi a velocità a 10. Andiamo a riunire sul fondo. Ok, adesso aggiungiamo il latte, il burro. E i semi della bacca di vaniglia. Andiamo a cucinare il tutto per 30 minuti. 90 gradi, velocità a 3. Adesso conclusa la prima cottura, proseguiamo la cottura per altri 10 minuti. Temperatura stavolta paroma. Velocità 2. latte condensato. Il latte condensato è pronto. Andiamolo a mettere in un contenitore. Latte condensato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti.